Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del Tg6. In apertura la pagina dedicata alla sanità e il tasso d'occupazione negli ospedali è preoccupante, soprattutto perché a mancare sono gli operatori sanitari, il personale disponibile è già tutto assunto e al lavoro, ha dichiarato il presidente Marsilio. Ascoltiamolo. L'Abruzzo per ora ha ancora i numeri da zona gialla, ma la situazione negli ospedali è critica. Lo ha detto ieri sera il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della riunione della cabina di regia regionale conclusesi alle 22. Attualmente negli ospedali abruzzesi il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è oltre la soglia del 20% che determina la zona arancione. L'unico dato ancora da zona gialla è quello che riguarda le aree non critiche, dove il tasso d'occupazione è 4 punti percentuali al di sotto del limite. Il numero di persone che sono oggi ricoverate, soprattutto in terapia intensiva, è un numero enorme. Io lo voglio chiarire perché le persone che non sono tecniche del mestiere pensano che avere il 10, il 15, il 20% di persone in terapia intensiva significa che i reparti sono semivuotici. C'è ancora tanto posto, ha voglia ad arrivare a 100. Non è così. Basta avere un 10-15% di posti occupati in terapia intensiva e gli ospedali vanno in overdose, vanno in tilt, cominciano a dover chiudere i reparti, non hanno più personale da dedicare alle sale operatorie, rinviano le operazioni. È questo il danno che si infligge da parte delle persone che finiscono in terapia intensiva. Possiamo aggiungere posti nei reparti e anche acquistare nuovi ventilatori, spiega Marsilio. A mancare però è il personale sanitario. I lavoratori disponibili sono già tutti assunti, ha dichiarato il governatore. Non è un problema di fare nuovi posti, ne possiamo fare ancora al doppio di posti di terapia intensiva. Basta che qualcuno ci spedisca o ci dia i soldi per comprare i ventilatori, lo facciamo anche a debito. Il problema è che non esistono anestesisti e rianimatori in numero sufficiente per curare e specialisti per poter curare le persone in quelle condizioni. E questi non si fabbricano, non si acquistano sul mercato, non esistono più, sono tutti assunti, lavorano tutti. Intanto prosegue la campagna vaccinale. Nell'ultima settimana in Abruzzo sono state somministrate circa 15.000 dosi al giorno. Rispetto alla settimana precedente il numero di prime dosi, inoculate agli over 50, è triplicato. Il 75-80% in alcuni casi di persone che sono oggi ricoverate in terapia intensiva sono persone che non si sono vaccinate. Questo è l'impatto vero e dannoso di chi ha scelto di non vaccinarsi e che ha condotto oggi a questa situazione di difficoltà dentro gli ospedali. Torneranno in classe lunedì con sette giorni di ritardo rispetto ai colleghi delle scuole d'Abruzzo e gli alunni delle scuole di Carsoli. L'ordinanza emanata dal sindaco Nazzarro ha fatto discutere e non poco scatenando le reazioni di Prefetto e Asla. Il servizio è a cura della redazione di Infomedia. Fa discutere l'ordinanza del sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, che ha disposto la chiusura delle scuole fino al 15 gennaio, presa di posizione che ha scatenato reazioni da più parti. Il Prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, è entrato a gamba tesa sulla questione con una nota che ha ribadito la centralità dell'ASL in merito alla sospensione dell'attività scolastica in presenza e il ritorno alla didattica a distanza. All'azienda sanitaria aveva fatto appello anche il comune di Avezzano tramite un documento firmato dal vice sindaco di Berardino per il ritorno alla DAD dopo i 46 positivi rilevati nello screening scolastico. Fermo a posizione arrivata dal sindaco Nazzarro, preoccupata dall'aumento dei contagio a Carsoli e in tutto il territorio marzicano. Io ho fatto una settimana fa l'ordinanza di sospensione delle attività in presenza proprio perché la situazione era grave e in fase di peggioramento come del resto è accaduto. Oggi siamo a più di 200 casi e quindi oggi sarebbe, io sono dell'idea di continuare a sospendere la didattica in presenza. Purtroppo le disposizioni nazionali e anche la nota del Prefetto non consentono a noi sindaci di andare oltre e per questo ieri ho inviato una nota alla ASL facendo presente tutte le preoccupazioni e chiedendo appunto una nota, una sorta di autorizzazione diciamo così. La ASL non mi ha risposto per cui allo Stato lunedì purtroppo le scuole dovranno riaprire ma non le nascondo con grande grande preoccupazione. Non capisco proprio la razio di tutto questo perché comunque lunedì tanti ragazzi saranno a casa perché tanti sono positivi. Oltre 200 i positivi al Covid a Carzoli, 6 pazienti sono ricoverati in ospedale, un quadro che preoccupa l'amministrazione comunale in vista del ritorno in aula degli studenti. Al momento abbiamo 6 persone ricoverate in ospedale per cui abbiamo un'incidenza del 4% sul totale della popolazione e per cui veramente riteniamo assurdo tutto quello che sta succedendo. Ai sindaci si chiede di lavorare, lo stiamo facendo ormai da due anni in maniera più forte rispetto a prima. Quindi stiamo lavorando, stiamo dando il massimo, però poi dopo ci legano le mani e questo non è corretto. Di servizi e criticità al distretto ASL di Pescara Sud. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, intervistato da Paolo Renzetti. Pettinari, lei oggi torna a riaccendere una luce sul distretto sanitario della ASL di Pescara Sud, denuncia delle criticità, delle inefficienze che poi si ripercuotono sulla cittadinanza, sull'utenza. Intanto parliamo del distretto sanitario di base di Pescara Sud che abbraccia un'utenza di 70.000 persone, quindi immaginate è il più grande e più importante di Pescara. Questo è un distretto gravemente faticente, intanto insiste su un immobile di proprietà privata, quindi la ASL paga un affitto importante, nonostante ha un distretto realizzato nuovo in via Riosparto, chiuso, lasciato così. E noi chiediamo il trasferimento immediato per risparmiare l'affitto e soprattutto per andare in locali idoni e adeguati, quindi da via Rieti a via Riosparto. Inoltre qui abbiamo trovato situazioni di grave faticenza, muri scrostati, termosifoni scrostati, fili volanti dappertutto, abbiamo situazioni a stanze molto anguste, piccole, ma la cosa ancora più grave è che manca la strumentazione di tecnologia adeguata, nuova. Abbiamo due ecografi, di cui uno vecchio e uno vecchissimo. Quello vecchio è stato sostituito dopo le mie denunce, ma io chiedevo un ecografo nuovo, hanno portato un ecografo usato. Cosa significa? Avere gli ecografi così significa non mettere nelle condizioni gli specialisti di poter operare in maniera adeguata. Non sono digitalizzati, significa che lo specialista del distretto non ha la possibilità di interrogare la dimissione del paziente, vedere la cartella clinica, il fascicolo sanitario elettronico del paziente e poterlo prendere in carico per dare anche una cura adeguata. Tutto ciò va a depotenziare la medicina territoriale. Qui è stato trasferito anche la diabetologia, l'endocrinologia dell'ospedale di Pescara, è stato messo qui al quarto piano, quindi gli anziani, gli invalidi, immaginate, nei giorni ferreali devono arrivare qui, non trovano parcheggio perché non c'è parcheggio e devono salire fino al quarto, al quinto piano con tanti disagi. La medicina dello sport in via Pesaro, mancano i termosifoni, quindi gli operatori sono completamente a freddo con qualche stufettina. Tutto ciò che comporta, comporta che poi non funzionando la medicina territoriale, il più grande fallimento, i cittadini sono costretti ad andare in imbuto all'ospedale di Pescara, va al collasso il pronto soccorso, vanno al collasso i reparti e sappiamo quello che succede. Quindi potenziare la medicina territoriale, i distretti sanitari di base, significerebbe risolvere i problemi di grandi problemi della sanità. Questo è il più grande fallimento del governo della sanità da parte del centro-destra regionale. Da Roma un'ordinanza che per contenere la diffusione della peste suina africana impone il divieto di caccia e altre attività in Liguria e Piemonte, dove ci sono stati alcuni casi. Occorre controllare la popolazione di cinghiali prima che il virus arrivi anche qui. Questa è la posizione degli allevatori abruzzesi. La peste suina africana in Liguria e Piemonte è già costata lo stop alle esportazioni di carne fresca e alimenti derivati verso Cina, Giappone, Taiwan e Serbia. È solo questione di tempo prima che arrivi anche in Abruzzo, ha avvisato l'ASL di Pescara. Anche nella nostra regione, chiedono gli allevatori, dovremmo ridurre il numero dei cinghiali, che sono la prima causa di diffusione del virus. Fortunatamente non riscontriamo al momento segnalazioni nella nostra regione, ma sicuramente occorre prestare la massima attenzione al fine di tutelare il patrimonio zootecnico locale. Purtroppo sono rimaste in base tutte le segnalazioni fatte nei passati, negli scorsi mesi riguardante la necessità di ricondurre ad un numero accettabile e la presenza di cinghiali sul nostro territorio. Fonte questi ultimi principali della trasmissione di questa malattia. Occorre immediatamente organizzare un'azione sinergica tra i vari organi di controllo al fine di sventare questa minaccia e tutelare le aziende zootecniche del nostro territorio. La peste suina non è pericolosa per l'uomo, ma può rappresentare un grave danno all'economia. L'export di prodotti made in Italy, quali prosciutti e salumi, a livello nazionale vale, secondo le stime di C agricoltori italiani, circa 1 miliardo e 700 milioni, oltre il 12% in più rispetto al 2020. Recentemente il ministro della Salute Speranza e il ministro dell'Agricoltura Patuanelli hanno firmato un'ordinanza che impone, in 114 comuni tra le due regioni finora colpite, il divieto di caccia, fatta eccezione per quella al cinghiale. L'ordinanza vieta anche la pesca, la raccolta di funghi e tartufi, il trekking e la mountain bike, tutte attività che possano implicare interazioni con animali infetti. Proseguiamo con la politica, polemiche, rinvie e ritardi sul progetto della nuova pescara. viene investito dal Movimento 5 Stelle, anche il Governo nazionale e i ministri di interno e affari regionali. Il progetto di fusione della nuova pescara arriva fino al Governo nazionale. Il Movimento 5 Stelle, infatti, con la deputata Valentina Corneli, coinvolge il ministro dell'Interno e il ministro per gli affari regionali e le autonomie, affinché la più grande fusione d'Italia diventi parte dell'agenda nazionale di governo. Appena prima della pausa natalizia, su segnalazione dei pentastellati, la deputata si è fatta portavoce presso il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il sottosegretario Sibilia e il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, segnalando la necessità che il caso nuova pescara acquisisca la rilevanza nazionale che merita l'importanza propria della più grande fusione mai avvenuta su tutto il territorio nazionale. Stiamo cercando di alzare l'attenzione perché il tempo stringe, la questione è molto importante, molto complessa e quindi è necessario che anche a livello nazionale ci si occupi del caso perché effettivamente è un caso nazionale. Le criticità sono sicuramente organizzative, tecniche, logistiche, non è semplice, anche perché, vi ripeto, è il caso a livello dimensionale più importante che ci sia mai stato in Italia, non ci sono precedenti, quindi bisogna fare tutte le valutazioni del caso e bisogna farle per tempo perché c'è un termine che si avvicina sempre di più. Le commissioni hanno lavorato, ma grazie allo spirito di intraprendenza di alcuni commissari che per fortuna sono stati presenti in modo da garantire l'apertura delle commissioni, ma non purtroppo ultimamente delle ultime due sedute dell'Assemblea Costitutiva. È importante invece che ci si assuma la responsabilità del proprio ruolo di costituenti in questo caso e quindi per questo abbiamo sollecitato Valentina Corneli a occuparsi anche di eliminare, di spuntare le armi di tanti detrattori che negli anni sostengono che la mancanza di un permesso lavorativo impedisca la possibilità di partecipare a queste attività formative per la nuova Pescara, quindi alle attività di commissione e alle attività costituenti dell'Assemblea. Partito il progetto Fire Spill, finanziato con oltre 16 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il progetto mira ad affrontare il tema dei disastri naturali e di quelli causati dall'uomo, con particolare riferimento ai rischi connessi a incendi e terremoti. Il COPE si occuperà delle attività relative alla comunicazione istituzionale del progetto in nome del partenariato internazionale, ma soprattutto alla realizzazione di progetti pilota riguardanti il monitoraggio dei rischi, la formazione degli addetti tramite corsi specialistici e l'organizzazione delle esercitazioni. Ce ne parla Stefano Recanati. Partito questa mattina a Teramo il corso di antincendio boschivo, i corsi rientrano all'interno del progetto Fire Spill che il COPE Teramo si è giudicato nell'ambito del programma Italia-Croazia sul tema cambiamenti climatici e gestione dell'emergenza nella costa adriatica. Presenti tutte le associazioni di protezione civile della provincia aprutina. Noi auspichiamo sempre che non ci siano i problemi, ma sappiamo che il nostro territorio è fragile e quindi bisogna anticipare i problemi e avere la capacità di affrontarli nel momento dell'emergenza in piena sicurezza, in piena formazione e con grande capacità di fare rete e relazioni. Noi metteremo in campo una grande dote di innovazione tecnologica a supporto proprio dell'attività di formazione, ma soprattutto di intervento e devo dire che la nostra provincia è attrezzata con la protezione civile con un grande canale, una grande rete di volontari e questo già fa la differenza. Inoltre Fire Spill si pone l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza affinché possa essere preparata e adeguatamente informata ai possibili rischi del territorio e alla reazione ad essi. Come primo obiettivo c'è quello di migliorare la risposta del volontariato che fa parte del sistema di protezione civile al superamento delle emergenze e delle calamità naturali. Come secondo obiettivo in modo specifico la sensibilizzazione del cittadino e la sensibilizzazione non può che passare cominciando dai ragazzi delle scuole, dagli studenti. In questo progetto è previsto la costituzione di un gruppo Telegram in modo da poter migliorare nel più breve tempo possibile la comunicazione appena qualunque cittadino viene a conoscenza di una calamità naturale. Il mio ruolo è da anello di congiunzione tra il mondo del volontariato provinciale di protezione civile e il mondo della scuola da dove praticamente vivo da oltre 60 anni. Non ci sarà nessuna sospensione riguardo l'istaglio a pagamento di Rossetto degli Abruzzi. La conferma arriva direttamente dal sindaco Nunez a seguito della richiesta avanzata dalle opposizioni per uno stop anche per incentivare gli acquisti in questo periodo di saldi. Vediamo. Una proposta strumentale, quella avanzata da una parte dell'opposizione riguardo la richiesta di sospensione delle strisce blu. Così il sindaco di Roseto Mario Nunez che ha rispinto questa richiesta aprendo invece ad un incontro con gli esercenti per fronteggiare la crisi di ormai attanaglia questo settore da molti anni che la pandemia ha notevolmente messo in ginocchio. Loro chiedevano di sospendere i parcheggi a pagamento come noi due anni fa e l'anno scorso abbiamo chiesto. In realtà i commercianti si sono espressi valutando appunto quella scelta come poi non efficace rispetto al territorio. Ma soprattutto sono mutate anche delle condizioni. Per esempio nella zona centrale l'amministrazione di Girolamo Ginobbe era riuscita a farsi chiudere con dei blocchi di cemento un parcheggio centrale di oltre 100 posti all'interno della nostra appunto zona commerciale. Cosa che noi siamo riusciti invece a riaprire. E inoltre rispetto al discorso di parcheggio a pagamento credo che non sia quello lo strumento per incentivare e per supportare un commercio veramente in ginocchio. Allora sì abbiamo risposto all'appelo dei commercianti di incontrarli a più presto. Ringrazio la consigliera Annalisa Delpiglio che è la delega e ha la fiducia su questo tema perché crea un ponte importante. Noi siamo per costruire ponti e non per creare delle barriere e dei muri. Non molto ma quello che possiamo fare lo faremo. L'ascolto, misure incentivanti, organizzazione di eventi come abbiamo fatto in questo periodo natalizio cercando di valorizzare tutte le piazze soprattutto dando anche un panorama e una prospettiva alle attività e soprattutto quello ascolto che è mancato in questi anni. Noi ascoltiamo le categorie e loro si sono espressi sui parcheggi a pagamento. Ovviamente non hanno detto che va tutto bene, hanno detto che bisogna trovare altre soluzioni. Su quello ci lavoriamo. L'amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha presentato il nuovo portale dei lavori di riqualificazione della Sirena, luogo simbolo della cittadina adriatica. L'amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha presentato oggi il portale che riguarda la riqualificazione di Palazzo Sirena, monumento artistico con decreto dei beni culturali e simbolo della città adriatica. I lavori verranno eseguiti grazie all'ottenimento di 925 mila euro per la giudicazione di un bando per la rigenerazione urbana. Francavilla al Mare ha poi ottenuto altri 930 mila euro per la riqualificazione della piazza adiacente proprio Palazzo Sirena. Il progetto di cui abbiamo parlato durante la compagnia elettorale mi ero impegnata nei primi 100 giorni a presentarlo alla città, siamo qua con la presentazione del progetto e anche con l'annuncio dell'ottenimento del finanziamento per realizzare effettivamente questo progetto. Tutto questo sarà affiancato anche dalla riqualificazione e rigenerazione urbana del tratto che va dal porto alla zona sud di Francavilla ma in particolare della piazza Sirena e del pontile. Io immagino che i progettisti che otterranno l'affidamento della progettazione dovranno colloquiare tra loro, immagino un laboratorio progettuale comune nel quale colloquino tra loro per rivedere l'insieme di questa zona centrale di Francavilla. Il progetto prevede solo la rifunzionalizzazione degli spazi, l'adeguamento, la creazione di due scale di sicurezza di nuovi ascensori per raggiungere non solo gli spazi del teatro e dei camerini ma anche per riabilitare l'uso della terrazza all'ultimo piano sul mare. Allo stesso tempo prevede una grande terrazza che invece si rivolge alla collina, alla chiesa di Guaroni, alla città creando questa doppia sponda e in questo senso cambia pochissimo perché gli elementi sono veramente minimali quelli aggiunti ma cambia moltissimo nelle sue possibilità d'uso, di fruizione anche all'interno del palcoscenico l'abbattimento delle barriere eccetera e questa nuova terrazza che è come un palcoscenico esterno sulla piazza per altre manifestazioni, spettacoli o semplicemente per allargare il foyer del teatro. E ora la pagina dello sport che apriamo con il calcio di Serie C, la risoluzione del contratto di Valdifiori le possibili uscite e casi spinosi di Garano e Rizzo. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, stamattina presente alla partitella in famiglia dei Biancazzurri ha affrontato le questioni riguardanti il mercato del Delfino. Il servizio è di Andrea Costantini. Presidente Sebastiani, l'ultima novità sul fronte mercato è la risoluzione di Mirko Valdifiori come si è arrivati a questa decisione? Che era anche un po' nell'aria, anche se forse è arrivata un po' a sorpresa ma soprattutto poi che impatto può avere sul mercato in generale del Pescara? Ma no, era nell'aria perché poi Mirko che è un ragazzo molto intelligente ha capito che non faceva parte del progetto tecnico del mister ed è stato, devo dire, un professionista esemplare fin tanto che è rimasto e quindi ci siamo accordati per chiudere qui l'esperienza in Biancazzurro anzi, addirittura gli avevo proposto se voleva continuare magari cominciare a fare qualcosa nell'ambito dell'area tecnica però lui si sente ancora giocatore, vuole giocare io gli auguro di trovare una soluzione che lo possa condentare Ecco, possiamo dire che Marilungo, Galano e Rizzo sono le priorità anche perché da quello che notiamo si allenano anche a parte mentre giocatori ad esempio di cui si parla come Bocic, Frascatore continuano ad allenarsi in gruppo quindi potrebbero essere in uscita anche lo stesso Onzita ma in realtà possono anche tranquillamente restare Noi non abbiamo mai parlato di uscite di Bocic, di Nzita, di Frascatore sono giocatori che sono stati da sempre nel progetto tecnico, nell'organico il mister li ha sempre tenuti in considerazione su Onzita si è espresso più volte perché ha una grande stima del giocatore e chiede al ragazzo di comportarsi da professionista perché secondo me può fare molto per gli altri purtroppo sono fuori dal progetto un po' per specialità tecnica un po' perché ci sono messi anche loro fuori dal progetto perché dobbiamo essere onesti non è sempre colpa di qualcun altro quindi bisogna trovare delle situazioni forse fa storia a parte Marilungo perché noi giocando con un attaccante solo è chiaro che non c'entra nulla diciamo a Marilungo come giocatore c'entra proprio che non trovi spazio quindi quello sì ma per il resto credo che per Galano e Rizzo sia un discorso completamente diverso da tutti gli altri perché Rizzo è arrivato voluto fortemente da noi è arrivato e credo che probabilmente non aveva la testa giusta per essere qui perché uno che fa quello che ha fatto Rizzo nelle ultime dieci partite credo che veramente debba essere richiamato al dovere perché non si può fare quel gesto che ha fatto nella partita dove è stato squalificato per quattro turni non si può arrivare in ritardo dopo nove giorni di vacanza quindi è giusto che si trovi una collocazione in Galano purtroppo ne parliamo da giugno la sua volontà è stata sempre quella di andare via però il giocatore dovrebbe capire o accettare qualsiasi cosa perché se vuoi andare via devi accettare qualsiasi cosa oppure devi capire quello che c'hai e quello che non c'hai io credo che un giocatore come lui se si fosse messo nella condizione di fare il suo e magari aspettare o la scadenza del contratto a gennaio in un'altra maniera probabilmente oggi avrebbe la fila per quelle che sono le qualità di Cristian Ma il Pescara è nelle condizioni di poter dare anche un piccolo incentivo diciamo così all'esodo o si tratta della volontà del calciatore di abbassare un po' le pretese perché immaginiamo che certi contratti anche in B ora non si possono più firmare in piena pandemia Ma per quanto mi riguarda posso assicurarti per me rimarranno qui tranquillamente gireranno il campo per tutto l'anno perché non c'è mai stata nessuna volontà della società di mandarli via e lo sapete bene se uno vuole andare via poi deve avere anche le palle per fare delle scelte Sette giorni e poi ripartirà il campionato di Serie C Colteramo che sabato prossimo farà visita alla Vispesaro con un organico che potrebbe presto vedere gli innesti di Codromaz e D'Andrea un organico più esperto per cercare la risalita in classifica Jacopo Forcella Aspettando Codromaz perché il centrale in uscita dal Piacenza è il prossimo obiettivo insieme all'attaccante Filippo D'Andrea per completare il puzzle Teramo in attesa degli ultimi innesti per poter riconsegnare dopo la lunghissima pausa a Guidi un organico più pronto a dare l'assalto alla salvezza L'arrivo in Emilia di un altro centrale come Cosenza libera di fatto il 26enne Triestino 11 presenze e una rete in stagione dovrebbe essere lui dunque a prendere il posto del partente Piacentini che da giorni ormai è a Modena Codromaz dopo un avvio di stagione da titolare ha perso via via posizioni nelle gerarchie di Scazzola e presto potrebbe raggiungere l'Abruzzo chi lo ha già fatto invece è Davide Mordini innesto per la fascia sinistra che prende il posto di Rillo Appena si è aperto il mercato il mio procuratore comunque mi ha chiamato dicendomi che c'era questa possibilità poi comunque a me l'idea piaceva perché comunque qua è una realtà importante dove abbiamo un mister che comunque fa giocare bene la squadra poi già mi sono trovato molto bene quindi sono felice della scelta che ho fatto e adesso arriva la parte comunque più più importante della stagione dove si decide comunque il nostro cammino adesso avremo tante partite ravvicinate con questi rinvii e là si vedranno comunque le squadre più attrezzate dove comunque ci vorrà tanta voglia e tanta determinazione perché comunque non è facile quando devi fare tante partite con tanti turni infrasettimanali quindi io sono pronto perché comunque anche l'anno scorso è stato così sicuramente qua adesso sono tre giorni che mi sto allenando ma già ho trovato comunque un gruppo molto unito già mi hanno fatto sentire già parte del gruppo e quindi si lavora molto bene ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione a sette giorni dalla fine della pausa e dalla ripresa del campionato dunque quello che si dovrebbe vedere al Benelli contro la Vispesaro sarà un diavolo tendenzialmente differente rispetto a quello che ha chiuso il 2021 con molti troppi gol al passivo e che si riparta ormai è una certezza la riunione del consiglio direttivo di Lega Pro infatti ha sciolto anche le ultime riserve sulla ripresa del campionato nel prossimo weekend dopo l'ok del CTS al nuovo protocollo per i professionisti si attende soltanto l'ultimo via libera rappresentato dalla circolare del Ministero della Salute una volta completato l'iter le nuove disposizioni saranno applicabili anche in terza serie Cambiamo sport domani allo stadio adriatico di Pescara si terranno i campionati italiani di marcia Assessore un altro grande appuntamento di sport a Pescara ai campionati italiani individuali di marcia Sì, da Assessore allo sport sono molto soddisfatta Pescara apre l'anno 2022 con un grande appuntamento sportivo parliamo dei campionati italiani assoluti di marcia uomini e donne che si terranno domenica 16 gennaio nei pressi dello stadio adriatico Giovanni Cornacchia un grande evento molto atteso la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale tanti big, tanti campioni che si contenderanno il titolo Il primo appuntamento è dell'anno 2022 quest'anno avremo una serie di competizioni a livello nazionale e internazionale tra cui una tappa dei Beach Soccer il campionato italiano giovanile di triatron naturalmente la partenza del Giro d'Italia e poi a settembre Dulcis in fundo l'Under 23 Giochi del Mediterraneo di Atletica Leggera quindi Pescara si prepara ad accogliere tutte queste manifestazioni con grande imprendio con grande passione con grande determinazione Quanti saranno gli atleti? ma di tutta la manifestazione perché non ci sarà solo la 35 km circa 200 verranno assegnati anche i titoli italiani delle categorie Master quindi Over 35 ecc e anche le categorie giovanili perché è un campionato di società di marcia Era l'ultima notizia i nostri servizi potrete trovarli su Youtube e sul sito tv6.it il TG6 torna questa sera alle ore 19 grazie e buon pomeriggio Grazie a tutti